Siamo con Fabrizio Santori, Presidente della destra alla Regione Lazio. Santori e il centrodestra hanno bisogno di una riorganizzazione. Ci saranno ripercussioni per il dopo Berlusconi anche in Consiglio? Certamente la destra e il centrodestra hanno bisogno di una riorganizzazione, perché in questo momento tra i nostri elettori c'è molta confusione. La confusione in realtà prende anche coloro che sono all'interno della politica stessa, quindi non ci sono punti di riferimento, serve un'azione forte soprattutto a destra con i valori che noi abbiamo tentato di rappresentare da sempre, ma serve anche un cambio di uomini. Questo è fondamentale, merito, riconoscimento del lavoro svolto nel corso del tempo, onestà, trasparenza, questi devono essere i cardini per la ricrescita del popolo della destra o meglio dei loro rappresentanti all'interno delle istituzioni. Le ripercussioni credo che ci saranno, non sono in vista in questo momento, ma certamente i cambiamenti saranno importanti, coinvolgeranno anche i gruppi consigliari della Regione Lazio, ma questa è una cosa che si vedrà più avanti. Per il momento si sta un po' analizzando l'intera questione, lo vediamo da tutte le parti, su tutti i fronti, lo si fa perché bisogna capire bene dove andare e quindi dare poi un senso di unità a tutto il popolo del centro-destra e farlo con valori condivisi, o meglio come li chiamo io, dei valori non negoziabili.